Sono contento, è un piccolo passettino ma ci deve essere continuità di prestazione per poter arrivare al risultato. Tre squigli alla classifica, tre squigli al Teramo sconfitto e alle dirette avversarie per la salvezza. Sono quelli fatti sentire al girone C di Serie C dal potenza di Fabio Gallo che ha festeggiato nel turno infrasettimanale la prima vittoria con la nuova guida tecnica. Subentrata Ezio Lino Capuano due settimane fa è diventato il terzo allenatore di stagione per la formazione di Patron Cagliata. Sto cercando di dare un'identità alla squadra come piace a me e le risposte ci sono state sia sotto l'aspetto del gioco che sotto l'aspetto del temperamento, della voglia di portare a casa il risultato perché la classifica dice che noi dobbiamo essere concreti e per essere concreti dobbiamo passare per quello che è la mia idea anche dal giocare a calcio. Il 3 a 1 di Teramo ha avuto una dedica speciale, quella per Leonardo Volturno indimenticato capitano rosso blu scomparso prematuramente dopo aver lottato contro un brutto male. Il risultato del Bonolis è arrivato in coda a giorni di lavoro sul campo con nel mezzo il rinvio per neve della sfida alla Ternana e ha riportato due dati che mancavano dal 17 gennaio, la vittoria e il gol con il potenza che era rimasto a secco per quattro partite. È fondamentale recuperare le energie perché hanno speso tanto, quando cambi allenatore le attenzioni devono essere altissime e quindi lo spreco di energie mentali e fisiche è altissimo. La prestazione è stata una prestazione dispendiosa, lavorare di continuare con i concetti e principi che ho cercato di dare alla squadra in questi pochi giorni di allenamento perché poi alla fine sono i primi due non li conto perché è appena arrivato quindi non c'è stata la possibilità di fare niente di particolare. Da Somma a Capuano fino a Gallo con il terzo allenatore stagionale il rosso blu, ora terzultimi con il Bisceglia, più uno sulla Paganese e più quattro sulla Cavese, sperano di poter tornare a guardare negli occhi l'obiettivo stagionale. Quella salvezza diretta distante oggi due punti da inseguire già nella prossima curva. Domenica al Viviani arriva la Virtus Franca Villa, start alle 17.30. Noi abbiamo la nostra strada che dobbiamo percorrere senza guardare troppo la classifica, i nostri risultati perché tutto dipende da noi.